signore e signori buonasera a nome di tutto il consiglio di classe del corso di vi do il benvenuto a questo incontro dal titolo un anno 2.0 il racconto il passaggio chi sono io sono un telagami una delle tante novità di quest'anno sono stato usato per ripetere spiegazioni inviare messaggi proporre indovinelli e questa sera sono qui per darvi il benvenuto questo è stato un anno speciale per tutti abbiamo fatto da cavie abbiamo provato cose nuove i professori hanno sicuramente studiato più dei loro allievi ma se stasera siamo qui è perché abbiamo lavorato tutti bene e siamo orgogliosi di presentarvi alcuni esempi per ogni disciplina e allora buon divertimento grazie a tutti grazie a tutti